Allora, secondo le statistiche, a 11.000 o più, migliore è Tamsin. Seppur veramente di poco. Le bestie non morti non ha senso isera. Allora, lui dice, se distrugge il suo servitore come non lo sapete, fornisce statistiche ai altri tuoi servitori. E però, appunto, che qua dovrei prendere lui. Io non so se poi questa qua mangia il mini drago prima che si attivi. Non so bene come funziona l'interazione. Tipo, se io tengo un mini drago e faccio HP con il mini drago in campo, lei mi spacca il mini drago prima che lui si pompi, vero? Mi sa che è così. Sta bene qua, ha vinto il flip. Lui è andato su a Naga. Se vogliamo avere la certezza di vincere, posso fare questo e banana e HP. Però, probabilmente, si sale e si gioca il flip lo stesso. Non è che non merita fare HP qua. Un bel eroe che non fa niente. Eh, però, purtroppo, sì, è un bel eroe che non fa nulla. Con Gullywix era da andare a cercare Peggy e Magmolock prima. Una volta che avevo tratto il ragioniere, anche dovevo rimanere al 4. Non so perché sono salito. Avevo prima a trovare il 7-2 che li rivocavo e fare una serie di Murlock. Avevo il ragioniere. Giocata proprio male la partita di prima. Già si sento i due giorni di pausa. Monetuzza, 4-1. Monetuzza, 6-3. 1-4 è forte con i non morti qua. Sono le bestie, non ci sono i mech. Vorrei prendere questo qua stand alone. Se non è anche se abbia senso fare HP, visto che alla fine non buffa niente. Questo eroe ha un senso solo con draghi. Però il punto è che non è una lobby da draghi, quindi in realtà è pessimo questo eroe, a prescindere. Guardavo il 2-1, prendevo un minuto di meno danni. Perché il 4-3 mi si schiantava. Vabbè. Io non so come fa a salire 4 pezzi. Allora, potrei prenderne 3. Potrei prenderne 3. Il 5-2 in ogni caso è buono. Potrei anche prendere solo il 5-2 e livellare. No, è 4-3, 2-5, 5-2. Però il 2-5 è brutto. Il 2 non c'è nulla da pompare. Sarebbe tipo 2-5 tenendo il 4-3 in mano. Col 6-3 in realtà ci sta. Però il problema è che però così non gioco questo. Quindi come faccio? Faccio male. Però ci sta questo qua col 6-3. Che palle. No, 1-2-3. Allora, lo devo far saltare lui e lui e rimanere con questi. E vediamo. Quello lì ha un attriggio da T4 perché ha evoluto un drop a 3 col 5-2. Cioè lui ha trovato doppio bad di Drago che è tipo partenza top. Lui adesso devi goldarli e ottenere un drop a 7. In pratica vince così. Stai andando bene. Hmm. Bello. Ho fatto il migliore. Non so se le percentuali tengono in considerazione... C'è già cosa mangiamo. Non lo so, bisogna vedere quando le calcolano. Comunque... Comunque si potrebbe livellare. Hmm. Si potrebbe livellare. Un po' greedy maybe. Però... No, se livello... No, livello un po' una merda col 2-5. Potrei poter prendere le monetine. Queste le prendo sempre. Dobbiamo prendere il buddy. Potrei far roll. Eh, perché se no è solo tier up e mi tengo il murlock in mano. Che però per come siamo messi forse ha senso. Perché può andare a rollare e anche sia bellissimo. Adesso che livelliamo qua. Cioè bisogna sperare di ricolpire di una nuova danzatrice. Questo lo tengo in mano. Eh, non posso livellare e fare buddy e tenermelo in mano, ragà. Forza. Teoricamente si perde questo. Forse spacco di nuovo il 6-3. Nice. Ok, forse questo 33 era proprio il fatto di poter spaccare il 6-3. Perché ha spostato infinito questa partita. Mi sa proprio di sì. E il 33 era che si spaccasse il 6-3. Perché in questo modo ho spaccato il 4-1, il 5-1 prima che attaccassero. Sto fortissimo. Allora, ragazzi. Potrebbe essere una di quelle partite dove andare a prendere l'Ease ha un senso. Non è male Noctumor. Però in generale è un pezzo che a me non mi fa impazzire. Giusto a prendere l'Ease, andare a prendere i 6 qua e basta. No? Cioè, tanto... Dio che Noctumor scoppia e fa stazze. Eh, lo salta lui. Ragazzi, vi ricordo se il video vi sta piacendo di iscrivervi al canale con il tasto qua sotto. Potete attivare la campanellina se volete ricevere le notifiche per i prossimi video. E se proprio volete esagerare, un commentino per l'algoritmo. A me non si... Si rinuncia al buff di Pina Freddo a sto turno. C'è da dire che... Sì, no, si fa... Sì, sì, va bene. Effettivamente così ha giocato il bergerollo. Poi al 6... Cioè, al 5 è per prendere le scimmie che ti scoprono al 6. La tua idea, Falegna. Ma oggi sei un Fire, eh? Vediamo se riesci a stare in testa alla classifica. Bella. In questo giro mi ha spaccato quello giusto. Addirittura abbiamo il 22% di killare sto poveretto. Gli salva. Per uno. Cosa è andato storto nel gameplay di ETC? Cioè, Baron e Macau, ragazzi. Più questo. Però, cioè, comprare loro senza avere Goldrin, non so. Non lo so. È chiaro che se trovo Goldrin abbiamo la build e abbiamo vinto. Però... Cioè, che senso ha comprare loro 3 così? Zero. Non ha senso. Magari trovo il Murlocotto 5. Prima fa la tripla. Quindi questa è roba forte. Quanto è lì, quindi ho il pannello a scimmia. Poi vediamo. Eh, vedi? Cioè, qua cosa prendo? Questo. Vabbè, comunque è forte. Macau con Salvatore Spinato non ha senso perché non scomba più col Gula Cabra. In un turno di città a build best intera. In realtà mancava Goldrin, Pino. Cioè, io non posso prendere quelli lì se poi non mi esce Goldrin. Cioè, non trovo Goldrin. Cioè, che te ne fai? Cioè, se avessimo preso quei 3 lì e il solito discorso regalo fidanzata è... Cioè, li prendi, non hai Goldrin, non hai la combo. Forzi Goldrin, poi magari non lo trovi. Ed è un problema. In realtà qua siamo così solidi che potremmo quasi andare a stare su. Lui, fai di prima, aveva preso 15 danni, ce l'ho da dire. I tuoi servitori... Azz! Trigore? Con l'8-2? Eh, non è male. Prendiamo? Io la prenderei, Trigore, qua. Abbiamo questi 3 che scombano con lei. Non prenderei Macau per ora, però prenderei Trigore. Devo pure Goldarla, minchia. Follia farlo. Devo Goldare Macau. Non so, vado troppo lì su Stacom, però effettivamente mi scala il doppio. Cioè, faccio saltare... Questo. Sembra buono. Perché racconti sempre questa storia della ragazza quando sei l'uomo pignocco di San Marino nella fila di ragazze che vogliono diventare la tua consorte. Eh, Long Sky, Long Sky. Storia lunga, storia lunga. Ho più ragazzi che vogliono diventare i miei consorti, che ragazze. Vero, falegname? Ti messaggi che mi arrivano. Vediamo se riesce a stare in testa alla classifica. Non so qua sta cosa qui, non sono convintissimo. C'è un commitment su una build non top. Infatti... Buh, andiamo. Ah, c'è il pesce di in fondo. Certo. Turna TRS. Allora. Allora, innanzitutto facciamo questo. Vediamo cosa mi dà il buddy, per me ci saluta. Ehi, stai davvero creando una grande armata. Ah, 2-8. Reborn su Coiler. Allora, direi che dal momento che abbiamo scelto di fare la build con Trigore, probabilmente Elise può saltare. Quindi vendiamo Murloc e DeLise e reborn il Coiler qua. Giusto? So che poi il 2-1 va anche venduto. Altrimenti spacco lui nell'8-2 e perde un sacco di stazze. Abbiamo un doppio salvatore. Trigore. Bisogna trovare... Poi bisogna trovare l'uccello comunque. Sennò siamo a punto a capo. Però ci sta. C'è da dire che il 2-8 ci riempie di soldi, sto turno, eh. Si vede che quasi quasi si prende il 2-8 a sto turno qua e si frizzà il 2-1. Sono 5 oro minimo col 2-8. Il 2-8 ci riempie di soldi. Poi si venderà uno di questi, si prende il 2-1, ma ci riempie troppo di soldi quello lì per non prenderlo. Beh, farei una cosa del genere. So neanche se serve il 2-1 in realtà. Cioè è buono su Coiler, ma... Non so se lo frizzerei. Per il momento non lo frizzerei. Cioè vorrei trovare l'uccello qua. Sì, tanto fa sta build. Prima parte da far saltare, volta la scimia è quello, per subito. Nice. Bello, anche questo. Non ho idea... Mi sono morti un casino di The Strattor, quindi ci ha riempito... Ci ha riempito... Ci ha riempito veramente di soldi. 8 soldi ci ha dato. Per trovare quindi... L'uccello. Barone anche, va bene. Ok. Altra trigore. Marche miseria, anche questo va preso. Non è uccello, ma va preso. In teoria è buona. Era gold. Wow. Chi salta, raga? Questo, prendo questa. Spaccolotto 2, basta. E ha senso mettere Barone al posto di Coiler o al posto di scimmia o al posto di niente? Può stare anche fermo così, eh? Per un turno. Ci vogliamo dare più d'attacco col Gulacabra? Cioè, prendo più che altro. Non so... Non so se basta sta roba. Non credo che vinceremo mai. Secondo la scimmia mi è da doppio oro, sì. Barone scala con Salvatore Spinato il doppio. Quindi praticamente questi qua, anziché attivarsi 4, si attivano 8. Quindi dà più vita qui. Però il punto è, devo sacrificare 4, 7 oro per fare questa cosa. Che ci può anche stare, eh? Sì, dai, scimmia via. Questo può stare anche in fondo. Oh, lui è la stessa build. Però non ha le... Triggering. Quindi si batte. Bella. Ok. Direi che doppia trigger è stata una bella play. Bisognerebbe... Eh, se non so, l'uccellino sarebbe sempre bello da trovare. Wow, un altro Salvatore è uscito. Baggata sta cosa. 8-4 ci dà 2 gold. No, questo... Questo purtroppo ha senso solo se vogliamo spaccare Gula Cabra. Che è un pezzo che può saltare. Non è proprio... Così illegale. E merita perché è l'unico pezzo che può dare attacco a Trigger, è un momento. Quindi serve. Vabbè, abbiamo vinto. Vabbè, i miei avversari hanno non morti, quindi è battibile questo. Va bene, cosa ci serve? Unccello. Togliere il coil al momento. Oppure Gull. Altro vi direi di no. Cioè non ha senso prendere altro per il momento. Per uccello. Coppie di barone, roba così, però... Fare questo qua sul coder secondo me non serve. Il eroe contro non ha morto neanche. Roll. Cello introvabile. Niente. Niente. Meno 10. Peccato. Tanto alla fine serve solo quello. Il resto... C'è un po' il tempo che trova. Potrei mettere 16-10 prima. In realtà se scoppia... No, vabbè, tanto scoppia sempre per HP. Questo va bene così. L'uccello è il 3-7 che quando una bestia prende danno dà più 1 più 2 a un'altra bestia. Dovrebbe fare così più o meno. Iridescent Skyblazer. Quando una friendly bestia prende danno dà una friendly bestia other than it più 1 più 1 permanentemente. È più 1 più 1, non è più 2 più 2. L'ha nerfato, è vero. Questo è quello che fa. Non è meglio Ghoul e Barone? Non è meglio Ghoul e Barone? Per il 3-7 avresti messo il... Cioè avresti messo il 3-7 che fa danno per i non morti? Buah, al momento non fa risaltare nulla qua. Cerca Lupo Sali. Non è la build Lupo questa. È la build Self Damage Beast. Con doppio salvatore, doppia triore, dorata. Cioè qua bisogna trovare uccello e basta. Se trovavo uccello provavo a vendere anche Star del Rodeo per provare a vedere se trovavo l'Aspel che lo goldava. È sempre stato top. Adesso ormai comincia ad essere tardi però... Più che altro bisogna vedere questo quanto è scalato perché potremmo battere di vita. Sono una scam. Cioè con due trigori così giganti e non so se lo ci batte. Ci flip. Addirittura con quello riesce a fare abbastanza tazzo. Ah, il 3-3 avrebbe sbagliato. Eh, il cavallo è stata una bella schiappata. Non so se magari ammazzasse Baronessi che il pesce. Ahia. Nice. Perdo comunque purtroppo. Però... È comunque bello rimuovere un barone mille e uno. Ciao Pietro, tutto bene. Continuiamo a cercarlo. Eccolo. Direi via Coiler. No, forse via Gulacabra. Macau. Forse via Gulacabra. E via questo. Random. Buono. Ha senso mettere Macau, ragazzi? Ma più forte di Coiler o no? Prendo due Macai e basta. Uh, nice. Cazzo, mi manca... Eh, non riesco a prenderlo. Frizzo. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Va bene. Poi tripliamo Macau. Non so se vogliamo fare anche 5-3 su barone. Così, for fun. Ma il punto è che poi teoricamente se vinciamo... Eh, vabbè, se vinciamo ci può stare, sì. Ci dovrebbe triplare Salvatore. Ma però se triplo Salvatore rischia di... Eh, no, rischia Macau di... Oh, non posso triplare Salvatore. Non posso più fare HP dopo, a teoria. Che oddio, si potrebbe anche fare. No, spaga sempre Salvatore perché ha due di vita. Eh, che stile. Ah, abbiamo dato un po' di... Un'era danata. Vincio il mio babbo. Non so se sia dialettale o meno. 99.9. No, sì, dici. Eh quasi il massimo delle stats possibili Le abbiamo portate a casa Sono completamente cariati Dalle due trigger Anche lui aveva perso comunque da non morti Quindi Ha senso fare stealth su Ardicelli Ha quasi più senso farlo sull'uccello che è su Barone Per maxare le statistiche Anche perché cos'altro cerchiamo qua E chi sta a livellare Quella ma Quella ormai ho già godato Ho già godato Ma c***o Il tripla di Barone in teoria Cioè secondo me Questa ci sta veramente a farlo su Ardicelli Tanto ma c***o Tanto Barone può scoppiare Non è neanche così Non è neanche così impattante Però in questo modo È più probabile che lui rimanga Insomma Cioè non viene tradato Anche quando queste finiscono Loro mi continuano a colpire Trigore Un pochino più volte E do un pochettino più d'attacco con questo Tanto alla fine Giusto per aumentare l'attacco il più possibile Delle Trigore Sì ho due spell Che danno 20 V Vero Si può stare anche quella Spell 4-4 Anche Si tratta di dare Più 4-4 Si ci può stare Spell più 4-4 Direi che cosa più forte è il Barbarone qua Poteva essere Anche tipo trovare Quella che gli mette In realtà Triple di Salvatore ci sta Non faremo più HP Però è più forte Comunque Macao Tirava due volte un Salvatore dorato Che Quindi Un botto di stats Non ci sta a farlo sul Salvatore Questo diamo un vasto fight Trigore forced Oddio Oddio Credo che ci stia Posizione Credo così vada bene Tanto questo è steltato Magari ci pensiamo turno dopo C'è da dire che forse Contro di lui Quasi l'HP non serve Cioè È quasi meglio avere un hit in più Questo che ha poca Hanno poca vita Che dare Più 8-2 a tutti Che figata comunque sta Non l'avevo mai fatto così Così completa Bell trade Forse il migliore Anche se fa comunque male Bella Bella Cioè sarebbe figo questo da fare Sul Macao Ci potrebbe prendere a tenere in mano Però prima bisogna tipare questo Cioè non ha senso mettere cavallo Cosa di questo tipo Armor Assolda pure una di queste reclude Cioè praticamente rollo per tirpare il Salvatore Non è sto faccio E quell'8-2 in più Val la pena Ma di no Secondo me conviene non fare HP qua Secondo me conviene non fare HP Ah cazzo non è armor Mi sono sbagliato Che puttana Non ci stava sta spell Oddio Oddio che flashata ragazzi Vecchiaia qua Inche se fosse armor Questa non ci stava per niente Non serve nulla Metterà uno di vita I suoi pezzi Forse giusto A Keltuzad Ma fatela subito Pre Premoros è una merda Boh HP Non l'ho detto Ho spiegato perché secondo me non ci sta Cioè alla fine Perché dovrei dare 8 attacco a tutti I miei pezzi Tradono quasi tutto Quasi meglio che si schianti Che so Nubarak 11-3 qui sopra Siamo tornati In realtà raga ho fatto due giorni Due giorni Dove il sabato di solito non streamo comunque Quindi Ho visto che vi stavate panicando Quindi ho messo un back in taverna Per assicurarvi ma In realtà non è che sono sparito Solo due giorni Venerdì e un sabato Vi tratto Vi abituati troppo bene Non volevo Se avessi fatto 8 attacco Qua sarebbe stato meglio Effettivamente Per tardare lui Non ci avevo pensato No Non ho fatto HP Perché ho detto Se lo lascio lì Faccio un hit in più Invece in questo caso Era meglio Cioè Come ne fa allo A capire Di qua è importante Che vengano tradati Questi qua giù Buono Nooo 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 Ho comunque vinto però Ho trattato il ballone Quindi alla fine va bene così Riusciremo a triplare I tuoi servitori hanno davvero dato tutto Visione perfetta Per me non sposta Altro uccello Ah di ci sta Ah di l'unico modo che ho A meno se triplo uccello Riesco a fare comunque Cioè non so Vogliamo vogliamo svappare gli uccelli Per fare il macao due volte A zero di vita Come l'avete visto Ha acquittato ragazzi Ottimo Potrei anche uscire Usciamo quindi No non credo Non so Non mi ricordo come funziona Mi sa che non conviene rischiarsela Abbiamo fatto il primo posto Con self damage beast C'è abbastanza incredibile Vincere con sta build Voglio dire a quante stazze arriviamo Perché l'altro non era Poteva vincere lui Non so perché abbia acquittato No vabbè diciamo che comunque Una volta che ha trovato salvatore Ci stava a prendere lei Cioè io ho preso salvatore Perché avevo chupacabra E quindi in realtà scombavano insieme E' andata bene anche a livello di lobby Nessuno ha fatto murlock Sennò non vincevamo mai O meglio lui stava facendo murlock Ma poi in realtà non era draghi Una roba strana Però capì lì quanto stavamo Tantotto In teoria potrei quittare Quindi Primo posto con Tamsin Chi l'avrebbe mai vista La bella di Tamsin E' stata E' stata la sicurezza Che ci ha dato il suo HP Nel mid game Poi il beccario l'oppo finale Con non morti Ovviamente E' un ottimo matchup E alla fine questi qua Sono i counter di non morti Pezzi con infinita vita Sufficientemente attacco Per tradare tutto E' vita che continua a scavare A botte di due Top Poi chiaro Non c'erano pirati elementa Quindi non siamo prepari Bill eccetera Bella Primo posto con Tamsin Self damage beasts Recuperiamo quello di prima Non del tutto Però questa YouTube Ce la merita Una build diversa dal solito Next Next Una Da Generale Una